Bene ragazzi, sono BenWolfers e siamo tornati su Clash Royale. Come sempre, via di bauli, vediamo un po' di avere fortuna, 71 di oro, delle gemme, capanna goblin e orda di sgherri, fortuna a docazzo stai. Proseguiamo con i bauli d'argento, 61 di oro, ariete della battaglia, spiriti del fuoco, niente da fare. Vediamo l'ultimo baulo, abbiamo 46 di oro, cavalieri 2, dai, e un po' di scherzi. Ok, già siamo un attimino migliorati. Andiamo subito in battaglia ragazzi. Io prevedo un sacco di botte perché nel video precedente abbiamo vinto un po' troppo per i miei gusti. Quindi adesso il gioco ci farà scontrare con avversari un po' più altini. Siamo contro Xander di livello 9, naturalmente. Mandiamo un cavaliere con degli aceri. Eeeh, uralà. Un attacco importante qui, eh. Andiamo di scarica. Lui purtroppo c'è una tronco che ragazzi, quella tronco ci ha aperto il culo tantissimo. 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 Qui diventerà fondamentale... Eeeh, mandiamo le UI. E appena lui arriva mandiamo l'oro. Ma come? Ma come ne hai colpiti? C'era stato un tempismo pazzesco. Non sono assolutamente d'accordo gioco con quello che è appena successo. Ma proprio non sono mai d'accordo. Boh. Va bene così ragazzi. Appena arriva questo simpaticissimo bocciatore che è una carta che io schifo e odio. Eeeh, vabbè. E qui ho sbagliato a mettere gli aceri ragazzi, eh. Ho sbagliato tanto a mettere gli aceri. Lì purtroppo mi andrà in hit. E qui siamo costretti a giocarvi. Questo. Lì si divideranno un pochettino le truppe. Va bene così. Nel frattempo quella scintilla deve morire male. Direi che ci siamo difesi bene visto il pericolo altissimo che stavamo correndo. Ci riproviamo? Ci riproviamo. Mandiamo un minatore. Ok. Io questa volta non voglio mandare i nostri amici alati. Perché lui c'ha un bocciatore appunto. E voglio giocare un attimo, giusto, un attimo diversamente. Mettiamo un cavaliere di qua. Mettiamo degli sgherri di qua. Mettiamo una lapide di qua. Direi che quello lì l'ha ignorata. Ragazzi, io non capisco davvero. E quando fanno così di muto. Per quale motivo doveva ignorarla. Credetemi. Se qualcuno lo sa, per favore me lo metta nei commenti. Perché ragazzi, io semplicemente non capisco. Allora, noi abbiamo messo una principessa di là. Noi possiamo fare di questo. Possiamo fare di quest'altro. Per fortuna quell'orda di scheletri è stata messa veramente al bacio questa volta. Mettiamo un cavaliere. Mettiamo una lapide. Questa non può ignorarla. Con tutta la buona volontà di questo mondo. Questa non può ignorarla mai nella vita. Mandiamo anche gli arcieri. Va bene così. E adesso facciamo l'attacco invertito. Lui non deve capirci nulla, ragazzi. Non deve capirci nulla. Lì voglio aspettare un attimo a mettere quella carta. Ok. Questa è esplosa male. Quindi posso mettere di questo. Lì il bocciatore deve subire qualche hit. Ne ha subite poche, sinceramente. Quindi va bene così. E questa è brutta, ragazzi. Qui posso fare di questo, di questo. Vediamo un po' cosa succede. Inutile dirvi che stanno arrivando le hit importantissime su quella torre. E invece no. Perché la partita è stata nostra. Incredibilmente, aggiungo. Perché l'avversario mi sembrava bello carico. Mettiamo subito in sviluppo questo baule che ci serviva tantissimo. Vediamo un po'. Aveva rare di livello 5, epiche a 3, comuni a 8. Diciamo che in realtà eravamo... Ah, siamo saliti in arena 8, ragazzi. Così? Senza che nessuno mi dice nulla? Ma io non lo so. Ma come saliamo? Scendiamo, ragazzi. Perché non abbiamo mai nella vita le carte per restarci. Siamo contro. Baw Play. Di livello 8. Non abbiamo esattamente l'attacco che vorremmo. Ma ci stanno arrivando gli arcieri. Quindi io direi di fare di questo, di questo. Perché io non mi metto una maledettissima palla di fuoco nel deck? Perché nessuno mi dà questo consiglio? E adesso, ragazzi, sono uccelli per diabetici. Allora, facciamo così. Facciamo così. Purtroppo quello mi va tantissimo in it. Ed è di livello 7, ragazzi. Ma di cosa vogliamo parlare? Eh, di la torre direi che ci fa un sacco di ciao. E purtroppo è così. E eliminiamo questo moschettiere per impedirgli dare troppo supporto. Ah, io fossi lui, attaccherei prepotentemente la torre centrale adesso. Ma proprio prepotentemente. Lui si sta preparando a mettere di nuovo quei moschettieri. Invece no. Guardate un po' che carta ha messo. So che io qui non posso permettermi assolutamente di supportare l'attacco come vorrei. Sono anzi costretto a mettere una lapide di qua. Mandiamo un gigante royal da questa parte. Cerchiamo sempre di attirare il fuoco avversario. Un cavaliere di qua. Eh, vabbè, c'è anche quello? Qualche altra carta cancro, no? Gentilmente. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Lì per fortuna ci ha fatto un buon lavoro il nostro cavaliere. Non c'è che dire. Ma qui inutile dirvi che siamo effettivamente nella merda. Usiamo una bella scarica per dare una ripulita. Se non altro siamo riusciti a restituirgli il favore della torre. E questo è bene, ragazzi. E questo è bene. Lui ributta quei cosi lì. E a questo punto voglio provare, visto che ha consumato un sacco di risir, a far di questo. E' tanto comunque persa per sé, ragazzi. Eh, infatti. E' così. Vediamo un po'. Mettiamo un di questo. Mettiamo di quest'altro. Qui non farò mai in tempo a giocare rapido. E quindi tanto vale non giocarla mai nella vita. Mandiamo questo su questa lane. Ripeto, non abbiamo molte possibilità di giocata. Ha messo per fortuna uno stregone lì. Purtroppo quella strega però va a fare delle hit importantissime ai miei sgherri. E questo è male, ragazzi. Inutile che vi dica quanto male sia questo. Andiamo a mettere un sacco di troop lì. Quel maledetto stregone. Eh, io uso una scossa. Non potevo fare diversamente. E a questo punto metto di questo. Metto di quest'altro. Ma giusto per fargli perdere tempo, ragazzi. Non è che posso dirgli troppo. Eh, metto di questo. Metto di questi altri. Non mi arriverà mai nella vita la carta che mi serve. Con il tempo che mi serve. Niente da fare, ragazzi. Ci siamo difesi con le unghie e con i denti. Ma avevamo un deck contro che ci ha completamente aperto. Vediamo, come sempre, che carta aveva. Vediamo un po'. Le rare tra il 5 e il 7. L'epica al 4 e un paio di leggendarie. Giusto che il bocciatore al 2 aveva di un livello accettabile per noi. Dai, che questa non si poteva vincere. Però una torre gliel'abbiamo portata via. E non è male. Siamo contro Jefferson di livello 8. Non abbiamo esattamente lo starter che ci piace. Io posso mettere degli sgherri da lontanissimo. Vediamo se lui butta una palla di fuoco, una scossa, qualcosa. Ha buttato una scossa. Perfetto. E a questo punto voglio fare una... Eh, no, 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 no. Voglio fare una mattata. Ma non mi dà mai nella vita la possibilità di farla, purtroppo, sto ragazzo. Ragazzi, incredibilmente ci sono rimasti in vita quegli sgherri. Stranissimo, perché non ci avrei puntato niente. E ci hanno dato una bella mano. Mettiamo subito questi arcieri a far danno a questi simpaticoni. Pronti con un cavaliere per difendere quegli arcieri dall'offensiva del nemico. Eh, mamma mia, ragazzi. Non è possibile. Per quale assurdo motivo si trovano sempre gli stessi deck? Io non lo capirò mai nella vita. Qui mi conviene fare la nostra solita giocata, ragazzi. Distraiamo quel moschettiere con il nostro... Eh, non mi è riuscita mai. Ovviamente. Lì, inutile dirvi che saranno hit importantissime, ragazzi. Importantissime. Qui siamo una scossa che ci serve tanto. Va bene così. Quello lì non mi abbatte la torre, ma me la porta quasi a fin di vita. E direi che ci piace, ragazzi. Io me la vado a prendere subito, quella torre. Me la vado a prendere subito perché magari, se sbaglia, cerca di difenderla. E infatti lo fa, ragazzi. Io non l'avrei difesa mai, questa torre. Ma mai, mai, mai. Metto gli arcieri qui perché per il semplice fatto che io da qui voglio attaccare. Quindi la mia realtà non è una difesa di quella torre, ma è un attacco. Lì devo, per forza di cose, prendermi dell'hate. Lui sta caricando di nuovo le desir per quei maledetti. Lo sappiamo benissimo. Ha usato quello? Davvero? A noi fa comodo. Mazza se fa comodo a noi. No, mettiamo il gigante royal di qua. Sta per arrivare le desir doppio. Lui ha un vantaggio enorme con le desir doppio, ragazzi. Non dimentichiamocelo. Subito una scossa. Purtroppo non siamo riusciti a fare nessuna hit. E questo è male. E questo è veramente male. Andiamo subito a... Inoffensiva sul nemico. Perché, ripeto. Eh, mamma mia, quelli come ci devastano. Non fa niente? Eh, vabbè, così. Va bene così. Lì è inutile dirvi che ci possiamo difendere con gli scheletrini magnificamente, ragazzi. Eh, mandiamo di questo. Qui siamo senza difese. Eh, qui devo confidare... Esatto, nella mia torre. Mettiamo di questo. Mandiamo di questo. Dai che qualche hit la riusciamo a portare a casa. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Ma andiamo il nostro povero minatore che è andato a fare una fine. Mortacci. Che brutta fine che ha fatto. Allora, ricordiamoci che lui c'ha il cannone. Quindi mettiamo subito questo. Eh, questi qua li interrompiamo così. Dagli l'ultima hit. No, dai. Per 160. Peccatissimo, ragazzi. Sì, secondo me questa partita potevamo giocarcela ancora. Non era ancora finita. Vediamo lui che carta aveva. Tutte quante le normali all'8. Le epiche tra il 3 e il 2. E la rara al 5, come noi. Devo dire che ce la potevamo giocare. Sono dispiaciuto. Purtroppo finché non abbiamo un mazzo un pochino più competitivo, intanto siamo tornati in Arena 7, possiamo dire veramente poco la nostra. Dai che tra poco anche il cavaliere farà compagnia alla banda di livello 8. Facciamoci un'ultima partita. Siamo contro Noa 2012. E vediamo un po' come ci comportiamo. Qui abbiamo esattamente la partenza che ci piace un sacco. Quindi io direi di far di questo. Qui non posso far di questo. Devo fare a forza di quest'altro. Ah, lui ce l'ha a livello 5. Quelli mi conviene non supportarli, ragazzi. Mettiamo questo qua. Vi ha giocato adesso gli arcieri. Speriamo non abbia una zap che gli salverebbe la vita tantissimo. Mandiamo un minatore qua perché stranamente, sottolineo, stranamente non ha una zap. Non penso abbia neanche una tronco perché altrimenti l'avrebbe giocata, ragazzi. E invece ce l'hai. Ma dai, davvero? Allora il deck è girato male. Altrimenti non si spiega perché non giocare una tronco che gli poteva dare una mano importantissima. Mettiamo di questo, mettiamo di questo, mettiamo di quest'altro. Inutile dirvi che quello stregone di ghiaccio deve morire male. Una hit c'ha da sempre. E su questo non ci piove. Pronti con una scarica. E ma è inutile la scarica. Veramente inutile. Ci conviene più andare avanti in questo modo. Carichiamo un po' l'elisir. Qui sono un po' combattuto, ragazzi, eh. Eh, mamma mia, della cattiveria che ci sta arrivando addosso. Mettiamo anche gli sgherri, va, sperando che no. Purtroppo uno finisce nell'attacco ranged di quel maledetto stregone. Però a noi va bene così, eh. Perché va detto che lì abbiamo ancora un sacco di carte pronte a far danno. Lui butta una tronco della disperazione, ragazzi. Perché avevamo un sacco di truppe che potevamo assolutamente, eh, che non andavano in hit con quella tronco. E a noi piace così, ragazzi. Abbiamo costretto a difendersi sulla destra e quindi non attaccato sinistra, che è dove ci sta facendo danno. Eh, pronto con questo, pronto con quest'altro. Questa volta lì non l'ha ignorato e questo è bene. Quello spiritello di ghiaccio ha fatto la fine che meritava, ragazzi. E direi attacchiamo la torre centrale. Costringiamola a difendersi qua, dove vogliamo noi. Lui ha messo una bella ghiaccio, bella ghiaccio, però per fortuna abbiamo ancora un sacco di carte utili. I barbari scelti si sono giocati in questo modo e a noi va bene così, ragazzi. Se gli accedi danneggiano un pochettino, ok, sono costretto a far di questo. Lui ha fatto una bella mossa perché si aspettava la lapide, però, ragazzi. La lapide non è arrivata e quindi si è preso dove non batte il sole. Mandiamo un cavaliere qua, mandiamo il nostro gigante royal perché, ripeto, io vorrei provare tantissimo a prendermi la torre principale. Vi ha messo bene questa volta i barbari scelti, inutile negarlo. Mettiamo di questo, mettiamo un cavaliere anche. Vediamo un po' di fare hit su quella torre. Gentilmente. Sapete che vi dico che io voglio pareggiare, voglio che mi pareggi la partita perché so che possiamo vincerla. So che possiamo vincere le tre corone. Quindi, perfetto, ragazzi. Qua è stata tattica. Io potevo fermare tantissimo quel cavalca cinghiali, ma perché farlo? Il domatone non lo volevo fermare. Io volevo le tre coppe. Ragazzi, abbiamo tanti di quei barili d'oro da avere l'intera giornata di domani coperta. Porco demonio. Apriamoci questo baule della corona. Vediamo un po'. 456 di oro. Quattro gemme. Tesla. Tante scariche. Questo ci piace. Niente a Torno Infernale, grazie. Barile Goblin. Questo va benissimo, visto che richiedevamo in clan. Questo ci è piaciuto un sacco. Ragazzi, abbiamo giocato veramente tanto. Io direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete. E soprattutto, iscrivetevi per vedere video nuovi tutti i giorni. Grazie e alla prossima. Ciao!